Fortunatamente questa pausa dalle nazionali ci ha regalato anche qualche cosa in ambito fiorentina Un sacco di roba, devo essere sincero, non mi aspettavo tutta sta roba Però comunque, ragazzi, prima ovviamente di ricominciare con i video, diciamo, pre-partita Perché poi ci sarà da giocare contro l'Empoli la prossima di campionato Vi voglio parlare, voglio anche sapere da voi Perché io sfortunatamente non ci sono potuto essere per motivi lavorativi, come sempre Tanto è sempre che è un problema grosso Per l'inaugurazione di Viola Park Voglio parlare anche con voi di Buonaventura, del suo momento incredibile MVP E poi del rinnovo appena praticamente avvenuto di Reccaio, ragazzi Tante cose sono successe, mi va di parlarne con voi Perché comunque bisogna, bisogna, bisogna assolutamente metterle sul tabellino di questa società Questa, tutta questa roba Questo momento d'oro è incredibile poi tra l'altro Perché, cioè, nel senso, ti ritrovi senza anche guardare la classifica È già di per sé incredibile, a quattro punti dal primo posto Ma a prescindere in un momento d'oro di tutti, gente ritrovata in campo Gente che sembrava persa l'anno scorso e quest'anno è clamorosa Io boh, cioè, è una roba... Allora, ragazzi, partiamo con calma Innanzitutto voglio sapere soprattutto da voi Perché io non l'ho potuto, appunto, vivere questa cosa Ma dai video che ho visto, da quelle che mi ha raccontato anche la gente Se siete stati carinissimi anche su Instagram Parecchi di voi mi hanno scritto dicendomi Insomma, a parte dove sei, dove cazzo sei E io stavo piangendo Ma a prescindere di dicendomi anche cosa stava succedendo Io vedevo poi anche da video su Instagram Sulle pagine della Fiorentina su Instagram Ragazzi, l'inaugurazione del Viola Park Ma, ma, cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Cioè, non è stata una cosa, sai Un'inaugurazione Cina Di un centro sportivo Bello, sì, insomma Cioè, giustamente Hai il presidente italo-americano Si fanno le cose all'americana Porca puttana Bellissimo Cioè, ve lo giuro, ragazzi Io sono stato a vedere la finale di Praga Che sono stato contentissimo di essere lì Ma mi gira più il cazzo di non essere stato A vedere l'inaugurazione di Viola Park Piuttosto che della finale contro l'Inter L'anno scorso di Coppa Italia Mi gira più coglioni quello Cioè, è stata una roba lamorosa Bellissimo C'era il mondo Luci, suoni I droni che disegnano il cielo Simboli di Firenze Lo stemma della Fiorentina Cioè, è una roba meravigliosa, ragazzi Meravigliosa Cioè, io Non voglio esagerare dicendo che Una roba del genere Anche per tutti sono stati impressionati Da questo Da questo nuovo Nuovo progetto Da questo nuovo centro sportivo Che comunque Commiss ha pagato Non è che ce l'ha regalato nessuno Ce l'ha regalato il presidente Tra virgolette Perché comunque è una cosa Che rimane a Firenze Ma Non voglio dire che Questa cosa davvero Perché prima si faceva i meme Ah, vi è entrato in campo Viola Park No? Però È un incentivo Cioè, che voi lo vogliate o no Questo Questa cosa qui Questo centro sportivo Che fa notizia adesso È un incentivo Non è che Perché appunto La squadra Allora S'allena meglio Così È più forte No, ma è proprio tutto Un contesto Un La società che investe E la squadra che viene ripresa Praticamente Dai Baratro È riportata Letteralmente Dove Gli spetta di stare A rigiocare una coppa europea A vedere due finali L'anno scorso Perse Tutte e due Però due finali Che non si vedevano Due finali Io non mi ho visto Anche a memoria Da anni Cioè Così C'è proprio un progetto Un progetto Un progetto veramente Fatto bene E questo centro sportivo Così clamoroso Perché è una roba Clamorosa Tirato su Dal niente A Firenze A Firenze ragazzi Che a Firenze Di Omono Non Davvero Non riesci Cioè Si sta facendo I cristi Per 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 la tramvia Perché sono tutti Incazzati Perché non c'è posto Per parcheggiare le macchine E questo va a costruire Un centro sportivo Di genere A bagno A Ripoli C'è capito Tu sei In mezzo all'Ohio In mezzo a niente E allora facciamo Un centro sportivo Grande 200 km quadrati Ma a Firenze C'è capito È una roba clamorosa E perché Ogni anno Volevo fare poi Lo stadio Perché Con lo stadio Poi se ne potrebbe Dibattere Però insomma Lasciamo perdere Quindi ragazzi Voglio sapere La vostra esperienza Ovviamente Di chi c'è stato Perché secondo me È stata una roba clamorosa Io ho visto solo i video E me l'hanno raccontata Ma vederla adesso È stata un'altra roba Poi parliamo un attimo Di Buonaventura ragazzi Ma Buonaventura Cioè Io Mea culpa eh Mea culpa Sono il primo Che alzo le mani Sono stato il primo Che quando per esempio Mi hanno chiesto Mi ricordo quest'estate Si facevano live Su Passione Fiorentina Anche quest'estate La tua formazione ideale Che ti garberebbe Vedere l'anno prossimo Prima che iniziassi Il calciomercato O comunque Il calciomercato Appena è iniziato Così che Tra virgolette Uno visto che non era Ancora entrato nessuno E C'avevi magari in mente Quello che poteva essere La squadra dell'anno prossimo Per In questo caso Di quest'anno Per Per provare a migliorare La situazione Uno diceva la sua Undici titolare E nessuno di noi Mi ricordo Mise Buonaventura Tra i titolari Nessuno Nessuno Perché Lo consideriamo un giocatore vecchio Perché ha 34 anni Perché Molto probabilmente Noi abbiamo a considerare I giocatori del genere In una Eterna parabola Discendente Perché più ovviamente Si invecchia E più piano piano Le prestazioni calano Ma Non è il caso Di Buonaventura Buonaventura ragazzi Che Dal L'Atalanta Dove si era messo in mostra Più Più di altre squadre È passata al Milan Per sei anni E poi è arrivata Alla Fiorentina Dove si pesticciava I piedi con Con Ribery Fino Gli ultimi due anni Che è stato Una roba clamorosa Perché anche l'anno scorso Ragazzi Buonaventura è stato Uno degli MVP Senza se e senza ma Della Fiorentina Dell'anno scorso Quest'anno Viene richiamata Anche in nazionale Da Spalletti Perché Spalletti Mica coglione Cioè nel senso Pellegrino Pellegrino un po' Perché è infortunato Tu dici Ci serve un giocatore Fantasista Che comunque In campionato Sta facendo molto bene C'ha 34 anni Però prendiamo Buonaventura Perché non bisogna sfruttare È vero che bisogna dare Largo ai giovani Ma perché non sfruttare Un giocatore Che sta Avendo un momento d'oro In questa maniera Ripagato Perché contro il Malta Fa un gol clamoroso Perché contro il Malta Fa un gol alla Insigne Cioè Il famoso tiraggiro Che supera il portiere Cioè Ragazzi Buonaventura È uno di quei giocatori Che va tenuto di conto Perché noi Ci si preoccupa Se Arthur Si farà male Ci si preoccupa Se Cajode Si farà male Poi adesso se ne parla Ci si preoccupa Se Milenkovic Si farà male Così capito Tu dici Che cazzo Madonna Ora sta andando tutto bene Massimo un giorno Ma Buonaventura ragazzi Buonaventura Buonaventura Per carità Ci sono le partite In cui In realtà Non gira proprio Tutta la squadra Però O i momenti Diciamo Quei che le partite I momenti in cui Non gira proprio Tutta la squadra I momenti in cui Non gira lui Ma quando gira ragazzi Buonaventura È uno spettacolo Per gli occhi È uno spettacolo Per gli occhi Mea culpa Io non l'avevo inserito Nella mia formazione Tipo Ma ad oggi Se io gli dovessi dire Il mio re a Lorenzo Di quattro mesi fa Gli direi Coglione Col cazzo Va bene Rovella Forte Rovella Ma guarda Buonaventura Perché tra quattro mesi È l'MVP Della serie A Praticamente Perché ad oggi Cioè Un centrocampista E sta facendo meglio Di Buonaventura Non c'è in serie A Non c'è Non c'è Quindi Buonaventura ragazzi Veramente contento Contento Poi bellissima La dedica al padre Quando gli hanno fatto In conferenza stampa La domanda Lui comunque Molto emozionato Anche perché Il padre Sfortunatamente Non c'è più Non so se lo avete Se siete Se l'avete vista Se non l'avete vista Andatevela a recuperare Perché è molto bella Molto Molto commovente Però a prescindere È un giocatore Che io sono Veramente contento Di averlo in squadra E spero Che la Fiorentina Che si è già Sentito Che stava Lavorando Comunque sta lavorando Un po' sotto traccia Per il rinnovo Tra virgolette A vita Perché ormai Doi 34 anni Quindi rinnovo a vita Con Buonaventura Io sarei contentissimo Perché è un giocatore Che a questa età Ti dà queste prestazioni In campo Sia dentro Che fuori Io lo voglio avere In squadra Fino a che Campa Tra virgolette Calcisticamente Parlando Ok Quindi Sono veramente contento Di questa cosa E io spero Il Buonaventura Faccia un'annata di Cristo Perché è un giocatore Del genere Lui se lo merita In primis E anche noi Ce lo meritiamo Poi ragazzi Ultima cosa Ultima cosa Ma non La meno importante La Fiorentina La Fiorentina Prende Una posizione Importante Dopo Nico Gonzales Che gli dà la 10 Che lo rinnova Che gli alza lo stipendio E appunto Nico poi ripaga La società Con le prestazioni Che sta facendo Fino ad adesso Te per forza di cose Ti sei trovato A Campionato in corso A dover rinunciare Al tuo titolarissimo Terzino A destra Perché Perché sì Perché Dodogli Si è disintegrato Un ginocchio Quindi Abbiamo avuto La fortuna Di trovare Questa riserva Che nessuno Si sarebbe mai aspettato Penso neanche Gli addetti Che l'hanno buttato lì Dicendo Lui di sicuro è pronto Ma nessuno Si sarebbe mai aspettato Un exploit così in positivo O questo impatto L'amoroso in Serie A Cioè La partita Contra il Napoli Ragazzi È un emblema L'amoroso Cioè la partita Contro il Napoli Cajode Ha tenuto Cajode Ha tenuto Cvaraschelia Tutta la partita Tutta la partita C'è stato dei momenti In cui Cvara non riusciva A pigliare la palla Cioè Cajode Ruba palla Gli ruba palla Cvara cerca di riprenderla Cvaraschelia E non Appunto Che cazzo ne so Caglieon Dei nostri tempi Non dei tempi del Napoli Gilles Dias Ok Cvaraschelia L'NVP Dell'anno scorso E lui addirittura C'è dei momenti In cui lo scherza E se ne va via Un Cvaraschelia Che allarga le braccia E non sai che fare Cioè C'ha 19 anni È questo Vieni dal settore giovanile C'ha 19 anni La Fiorentina Dal minimo salariale Che era Perché giustamente Un giocatore Che arriva dalla primavera Lo rinnova Fino il 2028 Penso che sia Una cosa ufficiale Perché mi sembra D'aver visto Comunque D'aver capito Che è una cosa ufficiale Meno male Ho aspettato un attimo Perché la cifra Sembrava essere A un milione l'anno E invece da quello Che ho capito È circa 400 mila euro Che comunque Si passa da 30 mila A 400 mila Insomma Per un ragazzo I 19 anni Capito Cioè Già È una cifra folle Ma a prescindere Dalla cifra Cioè È proprio La presa La cosa Che mi è piaciuta Di più È stata proprio La presa Di posizione Della società Perché È un giocatore Che si è messo in mostra Tantissimo In Serie A Cioè Giustamente Mi ha solo la Fiorentina Cioè Altre squadre Non è tu Cazzo Ma questo è forte vero Prima che lo rinnovino Cazzo Proviamoci O comunque Questo bisogna cominciare A pigliarlo La Fiorentina invece Da subito Lo rinnova Si approfitta Di questa pausa Delle nazionali Lo rinnova Fino al 2028 Gli dà delle garanzie Lo mette titolare Perché giustamente Per tutto l'anno Lo dobbiamo avere titolare Perché Dodon non c'è Ma chi si sarebbe Mai aspettato Un exploit In questa maniera Impositivo Di un giocatore Del genere Cioè Da parte di Parisi Me lo sarei potuto aspettare E infatti è stato Ma non così Devastante Cioè Ragazzi Voi pensate L'anno scorso ci sapeva Ma io Allora Io Dodò Io sono un estimatore di Dodò Dodò Io lo vorrei sempre in campo Sempre Perché a me piace tantissimo Tantissimo Mettersino È uno dei terzini Proprio Alla Dani Alves Molto offensivo Che da tanto Che da tanto si è in difesa Che in attacco Si fa tutta la fascia Cento volte Mi garba tantissimo Poi brasiliana appunto Però pensate L'anno scorso Te avevi Dodò E Biraghi Che hanno fatto benissimo Hanno fatto benissimo L'anno scorso Tutte e due È incredibile pensare Che le due riserve Cayode E Parisi Stiano facendo Ad oggi Meglio Dei titolari Dell'anno scorso Che Non li voglio mettere Come due MVP Dell'annata scorsa Però hanno fatto Molto bene Veramente Molto molto bene Nei top 5 Dell'anno scorso Sì Capito Quindi Sono veramente Contento Di questa cosa Di vedere Che la squadra Nonostante Ha perso Per esempio Un pezzo essenziale Ne ha trovato uno Forse ancora più forte Cioè Follia questa cosa Io ancora Non ci sto credendo Ragazzi Cioè Ora Da ora in poi Avremo un rullino Di partite Difficilissimo Difficilissimo Sarà difficile Nelle prossime 7-8 partite Raccimolare Per esempio Non dico Tanti punti Quanti fatti Fino ad ora Perché è impossibile È impossibile Però Invece di Ora se ne giocate 8 17 punti Tu ne riuscissi A racimolare 11-12 Sarebbe un miracolo Perché non so se andate Se avete visto Che partite ci sono Sarebbe un miracolo Cioè Veramente un miracolo Però Ci si penserà Quando ci saranno Ovviamente Fatemi sapere ragazzi La vostra sottolinea Di tutti questi argomenti Che vi ho citato Stasera Perché Cioè Volevo veramente Esprimere Con voi Per voi In generale I miei pensieri Perché sono stato Sorpreso in positivo Da tutto questo momento D'oro della Fiorentina Cioè sembra Una cosa Quasi anche Troppo bella Cioè A parte i risultati In campo Il La mia sorpresa È proprio In generale Cioè che sembra A parte Dodò Che si è sbriciolato E vabbè Ma La difesa Che funziona Finalmente Abbastanza bene Anche se ancora Tanti gol si prendano Martini Squarta Ha ritrovato Ritrovato Anzi Un pezzo essenziale Di questa nuova idea Di italiano Di il difensore Che va davanti E la gente Non riesce giustamente A marcarlo Perché chi va A marcare un centrale Capito Se lo vai a marcare A uomo I terzini nuovi Che in campo Fanno forse meglio Di quelli dell'anno scorso Buonaventuro Clamoroso Arthur preso Praticamente Dai Liverpool E tutti Io in primis A dire Boh vabbè Magari si sarà forte Perché le qualità Ce l'ha Però Capito Non gioca da un anno Due anni Così Clamoroso Cioè Duncan ritrovato Anche Duncan Ragazzi Duncan Ve lo ricordai L'anno scorso Duncan Nell'ultime 3-4 partite Ma cazzo Ma Capito Cioè Giocatore Che s'aspettava Da anni Un Un Centrocampista Centrale Box to box Che fa entrambe Le fasi In questa maniera Magari A verlo Per tutto l'anno In questa maniera Così Nico Gonzalez Che è partito Come una Bomba Una lignata Cioè Ormai Si continua così Deve uno Fa 25 gol A fine l'anno Non ci rido Nemmeno se lo vedo Però Cioè Sta mantenendo Una media Senza senso C'è da trovare I gol Gli attaccanti Devono ritrovare I gol Ma A parte Quello Ragazzi C'è Veramente Tutto Di positivo C'è qualche picco Noto Stonata Ma Oh Nel senso Fino ad ora Non ci si può veramente Lamentare di niente Ma di niente Ma proprio di nulla Quindi ragazzi Sempre Forza Viola Fatemi sapere il vostro pensiero Come sempre Instagram E il mio secondo canale In descrizione Ci vediamo Per il prepartita Poi Della partita Ciao ragazzi